carissime amiche carissimi amici quello che state per vedere qualcosa di eccezionale pardon di madornale prima leggiamo su wiki dictionary cosa significa ciofeca in napoletano schifezza prodotto di qualità scadente per i curiosi le curiose ricordo che su questo canale avete a disposizione centinaia di video grazie alla playlist nasa astrononauti ma attori che trovate anche attraverso la pagina web www.tinelli.eu sotto indice alfabetico ricordate che questa menzogna che si protrae da ormai un secolo è ancora più grande della menzogna in vigore attualmente oggi nello spazio stiamo per osservare un sole che non si muove mai mentre sopra una terra palla che vediamo muoversi una fantasmagorica stazione spaziale di orbita attorno salteremo a bordo della stazione spaziale cinese osservate bene quello che succede anche se si tratta di una clip chiara come la luce del sole un sole però che non si muove mai nemmeno quando l'orientamento della stazione spaziale ruotando attorno al presunto globo della terra dovrebbe continuamente cambiare ma come vedrete il sole nel video sulla stazione spaziale cinese non si muove mai e visto che il sole non si muove non si muovono nemmeno le ombre degli oggetti della stazione spaziale ad esempio i razzi che si vedono là in fondo sotto il disco della parabola sono degli inetti stanno solo dietro i monitor dei computer ma non sanno nemmeno come funzionano le proiezioni naturali di luce se andiamo a sovrapporre alcuni frame dell'inizio e della fine del video come vedete le ombre sulla presunta stazione spaziale non cambiano mai sono dei veri incapaci e chi crede a queste pantomime è un autentico credulone buona vita a tutte e tutti